Benvenuti a Gossip Italiano VIP. Prima di iniziare il nostro video, vi invitiamo gentilmente a premere il pulsante, iscriviti, e a lasciare un mi piace. Grazie per il vostro supporto. Oggi parleremo della visita di Papa Francesco alla Camera Ardente di Giorgio Napolitano, l'ex presidente italiano. Dopo la triste notizia della sua scomparsa, Papa Francesco ha espresso il suo cordoglio con parole toccanti. La perdita di Giorgio Napolitano ha suscitato emozioni profonde e sentimenti di gratitudine per il notevole servizio che ha reso al nostro Paese come uomo di Stato. Ciò che ha attirato particolarmente l'attenzione è stata la decisione del Papa di recarsi al Senato italiano per rendere omaggio all'ex presidente. Questa è stata una mossa senza precedenti, come sottolineato da Ignazio Larussa. È la prima volta che un Papa varca la soglia del Senato italiano, dimostrando l'importanza e la statura di Giorgio Napolitano. Papa Bergoglio è arrivato a Palazzo Madama utilizzando una carrozzina e, una volta arrivato, si è alzato in piedi per restare in silenzio per alcuni minuti, mettendo la mano sul cuore come segno di rispetto e tributo. Tuttavia, c'è stato un certo dibattito riguardo al fatto che il Papa non abbia compiuto gesti religiosi specifici, come il segno della croce o una benedizione sulla salma. Questo ha sorpreso alcuni fedeli, che si aspettavano un atto più liturgico da parte del pontefice. Questa apparente inerzia ha deluso alcune persone, che si chiedono perché il Papa non abbia impartito la sua benedizione all'ex presidente. Alcuni suggeriscono che Papa Francesco abbia voluto rispettare la presunta posizione atea di Napolitano, come suggerito dal giornalista Camillo Langone. Tuttavia, rimangono alcune incertezze e domande su questa scelta.